Musica Gomorra abruzzese, 5 arresti, ricatti, agguati e minaccia ad un imprenditore di Teramo. Pizzone 2, il ministro della cultura San Giuliano chiede spiegazioni all'Enel. A Pescara finalmente l'Enaia di da domani l'impianto natatorio riapre all'utenza. Sanità e infrastrutture per il Molise, la promessa di Maurizio Lupi a Campobasso per inaugurare la sede di noi moderati a fare gli onori di casa e dal coordinatore regionale Fabio Cofelice. Il sottosegretario La Pietra incontra i pescatori di Teramo, li attacca l'Europa. Spilano 4.000 euro ad un'anziana di Isernia, baby truffatori fermati dalla mobile grazie all'aiuto di un poliziotto in pensione. Calcio Serie D a Campobasso il giorno di Rosario Pergolizzi, la presentazione del nuovo allenatore all'Helicor Stadium. Buongiorno, ben trovati con l'informazione di Teleregione. Tante le notizie di cronaca e politica nel nostro notiziario. Partiamo dalla cronaca e partiamo dall'operazione che ha smantellato la Gomorra abruzzese. Un imprenditore teramano in difficoltà economica aveva venduto un Rolex ad un pregiudicato campano, si è trovato in un vortice di ricatti e minacce. Questa mattina, la fine dell'incubo con l'arresto di cinque esponenti di un clan camorristico che si era insediato nel teramano. Era finito in un giro di ricatti, minacce di morte e agguati con la pistola. L'incubo per un imprenditore edile abruzzese è finito con il blitz antica morra scattato tra il teramano e la campania che ha portato a cinque arresti per estorsione aggravata con metodo mafioso nell'ambito dell'operazione denominata Gomorra Truentina. Per l'imprenditore di Tortoreto tutto era cominciato dalla vendita di un Rolex per cercare di tamponare le sue difficoltà economiche. L'orologio era stato acquistato da un pregiudicato del napoletano da tempo residente a Martinsicuro. Ma per l'acquirente quell'orologio era falso e quindi aveva preteso la restituzione di 3.500 euro, cifra poi salita a 5.000 euro. Davanti al rifiuto dell'imprenditore è iniziata l'escalation di ricatti da parte del pregiudicato e di altri quattro indagati, tre uomini e una donna, anch'essi originari di Napoli ma domiciliati a Martinsicuro e componente di un clan. Nei confronti della vittima sono iniziate ad arrivare minacce anche di morte. Quindi gli indagati si sono impossessati della sua auto, una Smart del valore di circa 6.000 euro. Sempre più preoccupato per la vita sua e dei familiari, lo scorso agosto l'uomo si è recato dei carabinieri e ha denunciato tutto. Da qui ha preso il via l'attività investigativa dell'arma, condotta inizialmente sotto l'egida della procura di Teramo e successivamente sotto quella della DDA Aquilana. Questa mattina all'alba tra Abruzzo e Campania è scattato il blitz che ha portato all'arresto dei cinque pregiudicati e ha impegnato i carabinieri dei comandi provinciali di Teramo e Napoli del nucleo elicotteri di Pescara e del nucleo cinofili di Chieti. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP dell'Aquila su richiesta della locale procura della direzione distrettuale antimafia. Facciamo un break con la politica, ci occupiamo dell'ampliamento della centrale, progetto noto come Pizzone 2. Mentre il comune di Castel San Vincenzo esprime ufficialmente contrarietà rispetto al progetto dell'Enel, il Ministero della Cultura ha chiesto l'UMI all'azienda che ha presentato il progetto e al Ministero dell'Ambiente. Insomma, giorno dopo giorno si allarga il fronte del no, come ci racconta Nicola De Santis. A Castel San Vincenzo consiglio comunale straordinario per discutere del progetto Enel denominato Pizzone 2. L'Assise ha votato, dopo la presentazione di un emendamento da parte della maggioranza, contro il progetto. Presente anche una delegazione di amministratori del comune di Alfedena, centro che ospita sul proprio territorio o l'altro lago interessato dal progetto. Al Consiglio hanno assistito anche gli attivisti del coordinamento, oltre a numerosi cittadini. Intanto il Ministero della Cultura ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e dall'Enel una corposa documentazione integrativa, con il coinvolgimento anche dei beni ambientali e dei beni archeologici. In sintesi, il MIC rileva che il progetto che si vorrebbe realizzare interessa aree ed ambiti di passaggio delle regioni molise ed abruzzo di notevole carattere testimoniale, ricompreso tra i territori comunali di Pizzone, Castel San Vincenzo e Alfedena. Dunque coinvolge una vasta area intercomunale di ampia visibilità, motivi per i quali deve essere valutato con particolare attenzione. Nella richiesta, inoltrata al Mase ed all'Enel, si ripercorrono i dettagli del progetto, specificando che l'impianto prevede la realizzazione di una centrale elettrica di 300 MW da realizzare nel sottosuolo, a diverse decine di metri di profondità, con un articolato sistema di gallerie per l'accesso alla stessa centrale e dalle torri piesometriche con le rispettive paratoie. È prevista la realizzazione di nuove strade di servizio, alcune confronti di riporto di circa 15 metri, aree di cantiere temporane e permanenti, nonché la realizzazione di un elettrodotto aereo di 3 km, realizzato con 16 sostegni di altezza variabile tra 36 e 38 metri, nonché di una stazione elettrica in prossimità di un elettrodotto esistente. Insomma, non proprio un progetto senza conseguenze, su un territorio tutelato ed anche sull'impatto visivo, rilevano dal Ministero. E ora andiamo a Pescara. Dopo la chiusura estiva, le polemiche, il cambio di gestione, riapre il centro sportivo Lenaia di storica struttura sportiva, finita anche al centro di un caso politico. Da domani, utenti di nuovo in vasca. Valentina Ciarlante. Inizia una nuova era per l'enaia di lo storico impianto sportivo che in passato ha ospitato gare e allenamenti dei grandi campioni del moto e della palla nuoto, posto al confine tra Pescara e Monte Silvano, finito negli ultimi mesi al centro degli scontri politici tra il centrodestra, che guida la regione Abruzzo, che ha bandito e prorogato un avviso per riaprire lo stabile in tempi rapidi, e l'opposizione di centrosinistra, che lamenta poca trasparenza nell'affidamento all'unica società che ha partecipato. La svolta è ciò che auspicano gli utenti, ed è questo anche l'obiettivo di Riccardo Fustinoni, presidente del club acquatico, la società che da oggi gestirà per vent'anni la struttura, che si occupa già della piscina provinciale di Pescara, e che si è impegnata a riassorbire tutta la forza lavoro, quindi una decina di dipendenti. Le naia di diventeranno un villaggio all'interno della città, ha spiegato annunciando che ora tre piscine su cinque saranno fruibili, ma che nei prossimi mesi la vasca per la palla nuoto diventerà semiolimpionica, passando da 8 a 17 corsie e da 21 a 25 metri di larghezza. E ancora sono previsti lavori in un'altra vasca che ha problemi di infiltrazioni. Da domani quindi aperte le piscine e la sala fitness. Gli investimenti che abbiamo proposto nel bando di gara che ci vede a Giudicatari e che ammontano a 3 milioni e 200 mila euro. Confidiamo nei cittadini pescaresi che vogliono insieme a noi partire con una stagione nuova. Questo grazie a vent'anni penso che sia possibile. Noi siamo dopo 4-5 anni finalmente una gestione locale e pensiamo che possiamo dare tanto all'impianto e alla città di Pescara. All'incontro con i giornalisti indetto dal club acquatico il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l'assessora comunale allo sport di Pescara Patrizia Martelli. Sospiri ha rispedito ancora una volta le accuse al mittente. L'unica cosa che conta è che le nadie sono aperte, che non c'erano più concorrenti in quella gara. C'era un solo concorrente in quella gara e forse piuttosto che capillare bisognerebbe incoraggiare, sostenere, difendere ed aiutare. Non c'è alcuna emergenza farmacie in provincia di Pescara. La ASL ha provveduto nella giornata di ieri a liquidare le spettanze previste per il mese di luglio e stamattina quelle previste per il mese di agosto. Lo ha sottolineato l'assessore alla salute della regione Abruzzo, Nicoletta Veri, intervenendo sulla vicenda del ritardo nelle liquidazioni delle competenze alle farmacie territoriali da parte dell'ASL di Pescara, che ha portato i farmacisti a paventare lo stato di agitazione. Ci sono stati problemi di natura burocratica, ha spiegato ancora l'assessore Veri, che sono stati affrontati in una riunione in assessorato con i vertici dell'ASL 3 e le organizzazioni di categoria. Questioni prontamente risolte che consentiranno ora il riallineamento delle scadenze. E ora ci spostiamo a Campobasso, spaccio di droga tra i minorenni, cresce l'allarme nel capoluogo molisano, dove due giovanissimi sono stati denunciati dai carabinieri. Ci dice tutto Samantha Ciarla. Un fenomeno preoccupante è quello del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, che tocca anche il capoluogo molisano. Due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri perché trovati in possesso di droga e banconote false. Alla vista delle forze dell'ordine in via Gramsci, i due ragazzi hanno cercato di allontanarsi velocemente, comportamento che ha insospettito i militari. Da qui la perquisizione da parte dell'equipaggio del nucleo operativo e radiomobile che non ha lasciato spazio a dubbi. Uno dei due giovani nascondeva all'interno di un vasetto di vetro 13 dosi di hashish per un totale di 5,45 grammi e 6 banconote false da 10 euro. Il secondo ragazzo custodiva 1,37 grammi della medesima sostanza stupefacente in un marsupio racchiuso in un cofanetto di plastica. La droga è stata immediatamente sequestrata ed inviata all'AS di Foggia per le analisi qualitative. Parallelamente le banconote sospette sono state trasmesse alla locale filiale della Banca d'Italia per ulteriori verifiche. Gli episodi sempre più frequenti di detenzione e spaccio tra i più giovani stanno alimentando un crescente allarme a Campobasso. La presenza di banconote false, precisano le forze dell'ordine, aggiunge un ulteriore livello di preoccupazione portando all'attenzione le molteplici sfaccettature dell'illegalità minorile. Semiinterrato utilizzato per coltivare marijuana. A scoprirlo i carabinieri che hanno arrestato un 43enne a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Erano stati residenti a chiedere l'intervento dell'arma sentendo il forte odore proveniente dal semiinterrato. Qui gli uomini dell'arma hanno trovato 85 piante di marijuana alte circa 1,20 m e 2 kg di inflorescenze già essiccate pronte per lo spaccio. Ulteriori accertamenti hanno permesso di ritrovare a casa del 43enne altri 60 grammi di inflorescenze di marijuana già essiccate e un bilancino di precisione. Il 43enne è stato arrestato mentre è stato denunciato il proprietario del semiinterrato in cui sono state trovate le piante di marijuana. Un poliziotto in pensione ha consentito alla squadra mobile di Isernia di fermare due ragazzini provenienti entrambi dalla provincia di Napoli che avevano truffato un'anziana signora spillando le 4.000 euro. Nicola Di Santis. In provincia di Isernia continuano i tentativi di truffa e danni di persone anziane spesso sole e malate. Stavolta però i truffatori sono stati fermati dalla squadra mobile grazie alla segnalazione di un poliziotto in pensione. L'ex agente si è rivolto alla centrale operativa di via Palatucci segnalando che due soggetti stavano adescando una sua anziana vicina di casa. immediatamente la squadra mobile ha raggiunto il luogo della segnalazione ed è riuscita a fermare un ragazzino di 16 anni residente in provincia di Napoli che si è presentato a casa della signora affermando di essere un corriere venuto a riscuotere il pagamento di un computer ordinato dal nipote. La vittima era stata contattata sul telefono di casa da una persona che si era spacciata per suo nipote e che aveva affermato di trovarsi all'ufficio postale in quanto il PC che aveva ordinato non era ancora stato consegnato trovandosi in giacenza in filiale. Per la consegna avrebbe dovuto versare 4.000 euro al corriere che sarebbe giunto di lì a breve presso l'abitazione della signora. Il truffatore è stato denunciato per sostituzione di persona e truffa aggravata. Il complice appena maggiorenne, anche l'originario della provincia di Napoli che si era dato alla fuga a bordo di un'auto presa a noleggio è stato successivamente identificato grazie agli indizi raccolti in paese dovrà rispondere degli stessi reati. Non siete soli, chiamateci sempre. L'appello del questore Macri. Per prevenire le truffe agli anziani è fondamentale che si consolidi il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Non esitate dunque a rivolgervi alla Polizia di Stato per segnalare situazioni di pericolo o episodi sospetti. Ha concluso il vertice della questura Pentra. E ora ci spostiamo a Termoli. Questa mattina c'è stata la visita del sottosegretario all'agricoltura Patrizio Giacomo Lapietra che ha incontrato i pescatori nella sala consigliare del comune di Termoli e ha attaccato l'Europa. Ormai siamo all'ostremo, non ce la facciamo più. Il gasolio è arrivato alle stelle di nuovo. I controlli sono esasperanti. Abbiamo adesso anche quest'altra spada di Damocle che riguarda le telecamere a bordo sopra i natanti. Secondo una folle idea è per controllare quale sia il pescato. Un confronto franco, un importante momento di ascolto con i rappresentanti dei pescatori della costa molisana. Il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Patrizio Giacomo Lapietra, ha preso nota delle difficoltà ormai ataviche che la marineria molisana e più in generale quella italiana deve affrontare tutti i giorni. Caro gasolio, fermo pesca, 150-180 giornate di pesca l'anno, liberalizzate la proposta del sottosegretario e ancora le direttive europee che complicano il lavoro degli addetti del settore. La pietra ha puntato con decisione il dito contro l'Europa. Il sistema della pesca è fortemente influenzato dalle direttive europee quindi noi dobbiamo cercare di mediare quelle che sono le esigenze dei nostri pescatori con le direttive europee. È vero che questo governo vuole valorizzare questo settore e ci stiamo opponendo in maniera decisa anche a certe decisioni ideologiche dell'Europa. Penso per esempio al divieto della pesca a strascico, quindi noi siamo contrari, siamo l'unico paese che abbiamo votato contro. Stiamo lavorando per cercare di sistemare tante normative che impediscano ai nostri pescatori di lavorare in maniera, se non altro, alla pari di tutte le altre marine europee. All'incontro presenti anche il presidente della regione Francesco Roberti che ha sollevato le dinamiche dei pescatori di vongole, l'assessore Salvatore Micone e l'onorevole Elisabetta Lancellotta. Stiamo completando quelle che sono le misure del vecchio programma del FEAMP e quindi ci accingiamo ad aprire il nuovo programma. Quindi per fare questo è giusto che le azioni vengano condivise con gli addetti ai lavori. Sì, grande sostegno da parte della delegazione parlamentare di Fratelli d'Italia al mondo dei pescatori. Oggi siamo qui a Termoli per confrontarci insieme al sottosegretario La Pietra, quindi grande attenzione anche da parte del governo, che hanno presenza costante sul nostro territorio con le associazioni dei pescatori. Sanità con la riduzione delle liste d'attesa e infrastrutture, le priorità per il Molise su cui il governo Meloni è al lavoro. Così il leader di noi moderati, Maurizio Lupi, a Campobasso, per inaugurare la sede del partito, i particolari nel servizio, curato ancora da Samantha Ciarla. Taglio del nastro alla presenza del leader di noi moderati, Maurizio Lupi, che ha inaugurato a Campobasso la sede di noi moderati in Viale Elena 11. Beh, innanzitutto per dire un grazie, un grazie ai molisani che hanno dato un ottimo risultato alla lista noi moderati alle scorse elezioni regionali, più del 7,5%. E poi per ribadire che la nascita appunto del gruppo consigliare dei noi moderati, la nomina del consigliere cofelice a coordinatore regionale di noi moderati, è un segno del contributo che la nostra proposta politica vuole dare al centro-destra, ma innanzitutto anche a questa regione. I temi caldi attenzionati dal governo Meloni sono tanti in Molise. In primis la sanità con la riduzione delle liste d'attesa, ma anche la viabilità, puntualizza Lupi. I problemi sono tanti, innanzitutto la sanità, ne abbiamo discusso anche mercoledì sera con la presidente Meloni, la prossima legge di bilancio vedrà per forza di cose anche un contributo alla regione Molise sul tema sanitario, abbiamo da ridurre le liste d'attesa in tutta Italia e le infrastrutture, venire qui è un'avventura e siamo nel 2023. Lunedì declineremo quali contributi anche immediati possono essere dati alla regione Molise perché possa fare quello che deve fare una regione, cioè sul tema della sanità ritornare ad essere al fianco dei propri cittadini con una dignità della cura che non può essere differente da regione a regione. Al consigliere Fabio Cofelice il compito di radicare il partito sul territorio dopo l'ottimo risultato alle scorse elezioni regionali. Restiamo alla politica molisana, le opposizioni in consiglio regionale puntano a spostare l'attenzione dallo scenario preoccupante che la regione sta affrontando in questo momento delicato e preferiscono avere visibilità. L'affondo della consigliera del centrodestra Stefania Passarelli contro il PD e il Movimento 5 Stelle, il vicepresidente del consiglio regionale Passarelli, si riferisce alla difficile e complicatissima fase di approvazione del bilancio che vede la maggioranza al lavoro in silenzio a testa bassa perché si chiuda definitivamente questo capitolo e si possa cominciare concretamente ad essere operativi. I molisani si aspettano da questo governo regionale risposte a azioni concrete. Invece, riferendosi al salario minimo, Passarelli aggiunge, PD e Movimento 5 Stelle, quando erano al governo, potevano dare forma e sostanza alla proposta che oggi agitano come unica risposta alle emergenze che vive il Paese e il Molise. Mi chiedo come mai, fino a quando hanno governato insieme, il tema non si è mai entrato nell'agenda politica. Cambiamo argomento, una panchina solidale. Per ricordare Sara Gentile, l'assistente sociale scomparsa prematuramente a soli 45 anni un anno fa. I familiari e gli amici l'hanno ricordata con un evento pubblico inaugurando la panchina nel Parco della Solidarietà di Campomarino. Ho deciso di organizzare questo evento, ha spiegato la figlia Alessandra, non per mantenere vivo il suo ricordo dentro di me, della mia famiglia e degli amici più cari, perché da lì non se ne andrà mai, ma per sentirla ancora vicina all'intera comunità di Campomarino per la quale si è tanto spesa e a tutti quelli che l'hanno conosciuta e stimata. Sara ha giunto l'assessore alle politiche sociali, Rossella Panarese, è fonte di ispirazione ed è impressa nel cuore di tutta la comunità. Infine, Luciana Carbone del gruppo Insieme per Sara ha ricordato che la panchina solidale nasce dall'idea di lasciare un simbolo all'intera comunità campomarinese, in particolare i giovani, a testimonianza del grande lavoro di inclusione fatto da Sara nei confronti delle persone fragili e non solo. E ora ci spostiamo a Teramo, dove sono stati resi noti i risultati di Naturalmente Diversi, il progetto pilota di turismo sociale. Chiara Bonatti. Presentati i risultati di Naturalmente Diversi, il progetto pilota di vacanze accessibili e inclusive che ha coinvolto i comuni del Parco Gran Sasso-Monti della Laga con percorsi di vacanza e riabilitativa a gruppi di ragazzi diversamente abili, in particolare affetti da disturbi dello spettro autistico. Le finalità progettuali prevedevano la valorizzazione della montagna teramana come destinazioni di turismo accessibile per soggetti con bisogni educativi speciali al fine di poter godere appieno di spazi naturali e allo stesso tempo adeguati alle diverse eseggenze. Diciamo che sicuramente è stato un successo, adesso lo possiamo dire in maniera anche con contezza di numeri, anche se in realtà poi non sono i numeri quelli che hanno un valore reale, ma saranno le parole delle mamme, alcune saranno anche qui stamattina insieme a noi. Quello che è stato evidenziato a livello proprio di statistica biomedica è stato che c'è stata una modificazione statisticamente significativa, ciò vuol dire che non è affidata al caso di quelli che sono gli aumenti di alcuni tipi di valori che sono l'attenzione congiunta, l'imitazione e il tourtalking, la tournazione, soprattutto tra pari. Un team di osservatori ha seguito i ragazzi in ogni singola attività e nelle interazioni sociali, dall'arrivo e struttura fino alla partenza, compresi i momenti dei pasti, delle pause e dei parental training. Sì esatto, la particolarità del progetto è stato quello appunto di non fare solo delle attività terapeutiche in natura, che diciamo sono progettazioni che già esistono, ce ne sono tante, la particolarità è stata quella di coinvolgere le famiglie all'interno di questo percorso dei ragazzi e quindi di lavorare anche con le famiglie. La cosa che è uscita fuori da tutto il lavoro fatto di parent training è proprio quello che a volte le famiglie si sentono un po' abbandonate. Lavorare solo con i bambini a volte non basta perché il supporto e gli strumenti di lavoro servono ai bambini ma servono anche tantissimo a tutto il nucleo familiare, fratelli compresi. Dopo il successo di presenze registrato nella stagione estiva, Rivi Sondoli si prepara ad una entusiasmante stagione invernale. Si prospetta il sold out, come sottolinea il sindaco Giancarlo Iarussi, ai microfoni di Pasquale Damiani. Rivi Sondoli si appresta a vivere una stagione invernale alla grande. Cosa bolle in pentola, sindaco? Ma guardi, ultimamente gli impiantisti stessi del castello stanno preparando tutto il necessario per iniziare la stagione invernale in prossimità e che ci aspettiamo una grande stagione invernale. Già è difficile trovare case in affitto perché stiamo sul sold out, quasi tutto pieno e quindi si prospetta una grande, avendo un comprensorio, è il più grande del centro sud a livello di neovamente artificiale, è uno dei migliori di Europa addirittura e con il comprensorio 150 km di piste è veramente una bella situazione e quindi noi puntiamo molto sul turismo invernale che è in prossimità e quindi stiamo tutti nella fase preparatoria. Anche se siamo a metà ottobre, adesso state preparando un po' il periodo della neve e quindi si spera che a fine novembre, 10 dicembre, ne faccia tanta. Noi l'augurio nostro è proprio quello di avere la neve a fine novembre per iniziare la stagione alla grande perché proprio il periodo migliore è proprio quello di novembre dopo le giornate sono corte quindi se fa la neve resta per tutta la stagione invernale quindi è quella la nostra speranza. Se tutto dovesse filare liscio, quindi per l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata si apriranno gli impianti? Magari basterebbero anche le temperature basse perché con l'innovamento artificiale che c'è noi ci curiamo sempre dalla neve però comunque c'è l'alternativa dell'innovamento artificiale che si sta ampliando e sviluppando sempre di più quindi l'Immacolata sarebbe proprio il top dell'inizio della stagione invernale. E ora ci spostiamo all'Aquila dove diventa realtà il progetto nazionale che vede la collaborazione tra Ministero dell'Interno, Anci e Istituti di Vigilanza Privata. Garantiamo maggiore tutela e serenità all'intera comunità dal centro storico alle periferie ha detto il Sindaco Pierluigi Biondi. L'Aquila più sicura grazie al protocollo d'intesa mille occhi sulla città sottoscritto dal prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco il Sindaco Pierluigi Biondi con i legali rappresentanti di nove istituti di vigilanza privata. È un ulteriore elemento che implementa le attività sulla sicurezza che stiamo facendo in città insieme all'installazione di quasi 900 telecamere. In pratica con questo accordo chiediamo alle guardie giurate che girano per la città e che sono addette ai propri servizi di dare informazione alle forze di polizia, alla polizia municipale in ordine a movimenti sospetti, a situazioni potenzialmente pericolose. In questo modo avremo altra gente indivisa che sarà dedicata alla salvaguardia della tranquillità della nostra comunità locale. L'intesa declina a livello territoriale il documento siglato il 25 giugno 2022 dal Ministero dell'Interno, dal Lanci e dalle associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata e conferma, dichiarato il prefetto dell'Aquila, lo spirito di coesione interistituzionale e di collaborazione con il settore della vigilanza a maggiore tutela della sicurezza urbana dell'intera comunità. L'azienda europea 92 SPA è alla ricerca di personale queste le figure richieste escavatoristi con esperienza di almeno 5 anni sondatori di piccolo diametro, sondatori di grande diametro geometri con esperienza di almeno 10 anni e capi in bocco. Se si è interessati si può contattare il numero 0865491834 oppure inviare una mail a deposito1-europea92spa.it Tornare ad esporre le bandiere per la pace ai balconi è l'iniziativa lanciata dall'Università delle Generazioni che sollecita a prendere piena coscienza del tragico evento della guerra in corso in Medio Oriente pure perché tale lutto riguarda tutti noi, si legge in una nota. Dopo il primo momento di incredulità, smarrimento e sbigottimento riferiscono dall'Università delle Generazioni è tornato il momento di esporre bandiere della pace ai nostri balconi e alle nostre finestre anche con altri simboli per contribuire nel nostro piccolo a manifestare contro tutte le guerre in Ucraina, in Palestina e in Israele. E ora lo spazio dedicato alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo di sabato 14 ottobre in Abruzzo, tempo stabile ed assolato ovunque venti deboli e mare poco mosso queste le temperature l'Aquila minima 9, massima 25 gradi Pescara 15-30 Chieti 18-30 Teramo 13-31 gradi Bel tempo anche sul Molise con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata venti deboli e mare poco mosso Campobasso minima 13, massima 27 gradi Isernia 13-24 Termoli 17-30 Venafro 14-26 gradi E con le previsioni del tempo si conclude questa prima parte del nostro telegiornale io vi ringrazio per averci scelto e vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti potete seguire i nostri social non cambiate canale perché dopo un po' di pubblicità ci sarà lo sport a tra poco Ben trovati con lo sport di Teleregione parliamo di calcio di Serie D nel nostro TG Sport è in programma la sesta giornata nel campionato con un anticipo che si giocherà domani alle 15.30 la gara è Real-Monterotondo-Vasto Girardi invece le altre due molisane Campobasso e Termoli scenderanno in campo domenica 15 alle 15 il Campobasso giocherà contro la Vigor Senigallia invece il Termoli riceve in casa il Sora e a Campobasso è il giorno di Rosario Pergolizzi il nuovo allenatore dei Lupi subentrato all'esonerato Andrea Mosconi ha già diretto il primo allenamento e alle 15.30 verrà presentato alla stampa con lui ci sarà il vicepresidente del club rosso-blu Nicola Cirrincione ex giocatore in Serie A con le maglie di Ascoli e Bologna Pergolizzi da allenatore ha portato in Lega Pro il Palermo ora l'arduo compito di risollevare le sorti del Campobasso reduce da un solo punto nelle ultime tre partite dopo Pergolizzi la società del presidente Matt Rizzetta ha ufficializzato anche il nome del nuovo direttore sportivo si tratta di Sergio Filipponi e continuiamo a parlare di Serie D cercare di mettere uno stop all'attuale Serie Nera il Vasso Girardi viaggia alla volta di Monte Rotondo con un obiettivo ben preciso in quella che sarà la sesta giornata di campionato ci dice tutto Vincenzo Ciccone Cercare di risalire la china dai tre stop consecutivi rimediati a Fossombrone e nei due turni interni consecutivi con Avezzano e San Benedettese con un piazzamento che sarebbe ora sinonimo di play-out il Vasso Girardi di Mr. Bifini vuole rialzare la testa anche se di fronte avrà un avversario tutt'altro che semplice come il Real Monte Rotondo che i suoi quattro punti, gli stessi di Giallo Celesti li ha centrati negli ultimi tre turni peraltro tutti in esterna andando ad espugnare l'Aquila e pareggiando ad Ascoli Piceno l'obiettivo dell'undici di casa infatti è ottenere i primi tre punti interni della stagione e cercare di portarsi a metà classifica da parte sua il tecnico degli alto molisani Bifini non ha particolari problemi di sorta ed è pronto a disputare la contesa con i propri migliori effettivi calcio di inizio sul match domani alle ore 15.30 sul rettangolo di gioco dell'Ottavio Petrangeli di Monterotondo Scalo conterna designata quella composta da Rodigino Alessandro Dallagà, direttore di gara con assistenti Matteo Berloni di Ravenna ed Andrea Pelotti di Bologna Nel pomeriggio alle 16.15 allo stadio comunale Civitelle di Agnone ci sarà un incontro tecnico con il mister Mimmo Di Gesù dell'area tecnica del Sassuolo Calcio per il progetto Generazione S la società della Polisportiva Olimpia Agnonese invita tutti a partecipare a questo importante incontro tecnico e parliamo ora di futsal entrambe in casa le due molisane del futsal nazionale in A2 Elite per la seconda giornata domani alle 17.30 il CLN Cus Molise ospiterà il canosa dei molisani Tavone e la Bella al Palaunimol con l'intento di riscattare lo stop patito all'esordio alle 16 sempre domani ma alla palestra Sturzo di Campobasso esordio in B per la matricola Sporting Campobasso per il rosso-blu incrocio con la formazione Peligna del Sulmona e siamo ora alla pallavolo c'è la Lazio quale avversaria degli Spec Devils Campobasso nella seconda giornata di campionato i rosso-blu trovano un antagonista quella bianco-celeste che sarà senza il proprio principale riferimento offensivo l'ex Fenice Isernia Mattia Rosso ai box a causa di un turno di squalifica rimediato nello scorso torneo ancora Ciccone vanno alla ricerca del bis in campionato gli Energy Time Spec Devils Campobasso che domani pomeriggio con primo servizio alle ore 16.30 ed arbitri della perugina Ina Varfai ed il nisseno Andrea Ippolito saranno ospiti della Lazio formazione che proprio con il rosso-blu inizierà il suo campionato avendo osservato nella scorsa giornata il proprio turno di sosta tra i bianco-celesti trova spazio una vecchia conoscenza del mondo pallavolistico molisano come l'ex Fenice Isernia Mattia Rosso che però non potrà essere della contesa nella circostanza perché squalificato in organico peraltro figura anche il libero pentro Michele Vizzoco dalla sua il tecnico Mariano Maniscalco può contare su tutti quanti i propri elementi a disposizione con del fra i minuti che proseguono a grandi falcate il loro percorso di riallinamento con i compagni dopo i problemi impatiti in precampionato per il trainer dei molisani la via da utilizzare per cercare di portare a casa la contesa sarà quella legata al servizio e dalla correlazione muro difesa ed è attesa da una sfida intricata l'Europea 92 Isernia le Blue Fucsia domani pomeriggio alle 15.30 saranno ospiti del Volero Roma Sestetto uscito sconfitto all'esordio le Pentre invece alla prima hanno superato al tiebreak le sarde dell'Ossi le due squadre peraltro si sono anche affrontate fra loro a settembre in amichevole al Palafra Raggio e questa era la nostra ultima notizia il nostro TG Sport si conclude qui io vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a l'Ossi Grazie a tutti.